I dati che avete riportato dalla Titan confermano che il comando centrale del Pacifico è stato distrutto da un attacco missilistico cinese. Questo è tutto territorio di Chang ora, se della nostra flotta è rimasto qualcosa è là fuori che brancola nel buio. Capisco capitano, un motivo in più per essere cauti, però aggiungerla alla squadra Iris non la prenderà bene. Iris non ha il quadro della situazione, le circostanze sono eccezionali, lei verrà con voi. Ho capito, Iris è un bravo uomo, lo terrò d'occhio io. Ti ringrazio, sei fatto a modo tuo, ma non sei niente male come leader. Grazie capitano, c'è qualcosa da sapere in merito all'assalto all'aeroporto? Sì, va a prendere Rekker. Pak, Rekker, mi serve il vostro aiuto. Cerchiamo di non sprecare i nostri ultimi missili. Assalite l'aeroporto e controllate la zona. Diteci quando gli aerei sono sulle piazzone. Eliminiamo quegli stronzi e andiamo ovest passando dallo stretto. Sì capitano, una passeggiata. Pak. Rekker, potreste non farcela, molti non ce la faranno, ma questa è l'unica speranza. La squadra che arriva all'aeroporto e lancia il Bengala ha 30 secondi per andarsene, priva dell'impatto dei missili. Ricevuto. Non fatevi fregare dal fuoco, amico. Anna? Andiamo, Rekker. Andiamo, Marine, andiamo! Ordini del capitano, Irish. Oh, dove pensi di andare? Ti sono offerta. Ti sei offerta, ma chi l'ha provato? Il capitano Garrison, parla ne con lui. Tu lo sapevi? Parli mandarino, sorgente. Quello che so o non so fare non è a farti una signorina. Ascolta, io voglio soltanto aiutarle. Tu sei con me, vero? Cazzo, secondo me stiamo facendo un grosso errore, è un rischio, è anche un peso. Attenzione, messaggio del capitano Garrison. Guerrieri della Valkyrie, siamo stanchi. Abbiamo sofferto. Verso amici, persone cari. Faremo in modo che non sia stato vado. La tempesta ha bloccato l'aereo nemico, ma non sarà per noi. Forse resta solo la nostra nave. Ma non ci arrenderemo senza combattere. Andremo a Ox. Colpiremo l'aeroporto sfruttando la tempesta, creando un passaggio nello stretto di Singapore. Dobbiamo essere rapidi e decisi. La tempesta ci porterà a casa. Che tempo fantastico. Non farmi incazzare, ma hai quella cazzo di pistola lanciarazzi? Sì, ce l'ho. Qualcuno sa se la tempesta si sta intensificando? E chi lo sa? Potrebbe calmarsi tra mezz'ora. Sembra più una depressione tropicale che un tifone. Cos'è un tifone? Voi lo chiamereste uragano. Per festa o no, dobbiamo farcela. Se l'attacco manca il bersaglio, molte persone soffriranno. Reckers, davanti a te, c'è un punto libero alla spiaggia. Portati là. Allora, non ci avviciniamo alla nostra posizione. Allora, no, non c'è un paese. Allora, siamo portati dal fuoco nemico. Anche all'aperto. Aspettate al fuoco nemico, phantom. Ecco il nostro supporto! Andiamo! Andiamo! Vi tagliate! Forza, nemico! Trovate un risuolo, stranaggia! Teniamo le fogo di pressione! Andiamo! 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 Stiamo uniti! Liberiamo l'area di atterraggio! Se cala il raggio giocatore per noi e i carri, guardato MP! Se falci le tue truppe pur di paralizzare Shanghai, significa che non scherzi per un... ...dai! Tu arriva! ...dai! ...dai! Oh Oh, sì, testa di bomba è sicura! Dobbiamo sbrigarci! Cazzo, sì! Cosa sta passando? È a nord, sull'altro lato di per l'autostrada. Quindi attraversiamo il ponte più avanti. Credo. Credo il barco di uscire dalla tutela. Venga, vai avanti. Cosa sta passando? Cosa sta passando? Cosa sta passando? Cosa sta passando? Comunicazioni inattive. Tutte radioline. Devono riparare l'equipaggiamento buono. Spatteranno via. Fuori il binocchio. Vediamo poi che abbiamo a capare. Runner, ambito. Due. Andiamo all'embarco. Lande l'ordani dall'embarco. Posto. Riprendere. C'è un peracadone di quanto per l'imbarco più risero bloccato. Ok, avanti. Vediamo il sottopassaggio. Appiniamento ottica. Attendere. Passo, granata. Carro è un bel taglio. Rattro runner. State vicino tanto. Siamo in movimento! Dobbiamo arrivare subito l'aggiù! Dietro il carro, wrecker! Trampton, trovami dei bersagli! Sorda all'ingaggio! Siamo in attesa dei bersagli! Bocca di soppressione! Attenzione, sparo! Ok! Ultimazione confermata! Ricarico! Appendere! Runner, qui Envil 2! Contatto divino con le difendioni di caccia! Adesso andiamo a scacciarlo! Ricevuto Envil 2! Appena in tempo! Aiutatevi a sostenarci come si deve! Runner, chiudo! Ci siamo, rec! Ok! Non è un po' più falla! Non è un po' più falla! Dove ne è una dipattura! Non è un po' più falla! L'organizzazione, non è un po' più falla! Non è una dipattura, ne è un po' più falla! Grazie a tutti. Siamo duri, Rack! Aspettiamo che Envy labbra un vargo! Guarda, stai lontano! Guardiamo! Guardam solo! Guardiamo! Guardiamo! Buon appetito! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! Andiamo! Controllate i vostri settori e copriteci le spalle! Runner 1, chiudo! Porca troia! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! E' un blocco a stradale. Il tasso ricontrollato è in stanza. Possiamo disattivarlo, basta trovare la sala di controllo. Perquisiamo questo posto e avvio i nemici. Sono pronto! A posto! G, l'Ukernacker l'abbia trovata. G, l'Ukernacker l'abbia trovata. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!